Fiorisce la speranza per coloro che sono affetti da leucemia, linfomi e mielomi. Questo grazie alle stelle di Natale che anche quest'anno l'AIL si impegna a consegnare da oggi a domenica in migliaia di piazze italiane. In Abruzzo i punti individuati sono 137, li trovate sul sito dell'AIL. Attraverso un contributo di 13 euro si può prendere la stella di Natale e soprattutto si potrà sostenere la ricerca e anche l'assistenza ai pazienti ematologici. In questa gara di solidarietà sono compresi anche i familiari che assistono i malati durante il percorso di terapia. Centinaia i volontari dell'AIL coinvolti, ma non sono i soli. Una cosa ulteriormente bella di questa iniziativa dell'AIL è che tante sono le associazioni che collaborano grazie ai propri volontari. Antonio Romano è il presidente dell'associazione Val Pescara Protezione Civile. Sì, noi ormai sono diversi anni che collaboriamo con l'AIL, siamo sempre contenti, soddisfatti per l'aiuto che diamo e per quello che vediamo da parte dei cittadini, che c'è veramente un grande coinvolgimento per aiutare chi ha più bisogno di noi. Grazie. 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 Grazie.